Si fa un gran parlare del conflitto tra Stato e Chiesa, fra queste aree di grande influenza sulla formazione, sulla cultura, sull'etica, sulla bioetica per quanto riguarda la situazione attuale e si tratta di punti di vista e divisioni molto diverse. Io penso però che sia arrivato il momento per quanto riguarda in particolare la Chiesa cattolica e la religione cristiana, quella cattolica particolarmente in Italia, di affrontare un tema antico che è stato sempre messo da parte, cioè la questione dell'effetto educativo dal punto di vista pedagogico e psicologico, dei precetti morali della Chiesa, fin dal catechismo, fin dal battezzo in poi, che effetti provocano veramente nella struttura della personalità dell'io. Per far questo bisogna introdurre anche l'elemento della concezione della pedoclastia che è, secondo ad esempio Alice Miller, una psicologa svizzera molto conosciuta, è una pedagogia nera, cioè il modo come i genitori ed educatori adottano meccanismi formativi che contraddicono il messaggio. Facciamo un esempio, se si vuole insegnare a un bambino che il fuoco fa male, la cosa peggiore è prendere la sua manina e metterla sul fuoco per ottenere questo risultato. Il messaggio è un messaggio obiettivamente sadico che produce danno. Questa logica della pedoclastia è antica, ripeto, perché in tempi antichi nel mito greco, per esempio in Figenia, viene sacrificata dal padre Gamendone perché le navi Ache partono per la guerra di Troia e quindi hanno bisogno di un sacrificio umano, una dea sanguinaria, eccetera. Ora, se noi poniamo una domanda in una classe di bambini, scuola elementare, diciamo che è giusto che il bambino venga sacrificato per un bene collettivo, malinteso bene collettivo, tutti chiaramente dicono no, è sbagliato. Eppure, se noi partiamo dal concetto del cristianesimo, quello di base che è il concetto educativo del crucifisso, per esempio, abbiamo una proposizione che è il fondamento stesso della fede ed è ritenuta dai cristiani un modello supremo ed esempio d'amore, ed è questa. Egli, il genitore Dio, cioè Dio nella veste di genitore, mandò suo figlio sulla terra perché fosse sacrificato per la salvezza dei peccatori. Questa è la proposizione controvertibile perché penso che tutti quanti fin dalla nascita siamo stati bombardati da questa logica. Proviamo a metterla sotto un'analisi, una lente di tipo pedagogico, psicologico, anche del buon senso di chiunque. Il concetto che passa di fondo, che viene dato per scontato, è che il genitore, in quanto il genitore, anche in una veste divina, quindi con un'autorevolezza ancora maggiore, ha un diritto di vita e di morte sui propri figli. Diritto di vita e di morte che viene dato per scontato. Quale genitore può assumersi l'ingerenza di dover predestinare, fin dal concepimento, un figlio alla morte? Nasce a Natale per morire prima di Pasqua, fondamentalmente, e questo viene poi contrabandato come un atto d'amore, una qualità dell'amore, dell'amore cristiano. Quindi sia che abbia 33 anni, sia che sia un bambino che nasce predestinato, abbiamo un concetto perverso, pedoclastico, cioè che un genitore di fatto ha il diritto di ingerire sulla vita del figlio fino a predestinarlo alla morte. Questa è la base che dovrebbe già questo agli educatori, fornire un campanello d'allarme straordinario per mettere sotto accusa gli effetti che un'educazione del genere può dare quando dando per scontato questo aspetto. Figuriamoci quando a questo livello si introduce l'altro concetto pedoclastico, che è la salvezza dell'uomo, l'uomo come salvezza deve fondarsi sulla morte di un debole, di un predestinato, di un innocente. Allora, o la salvezza è frutto in un'educazione, alla responsabilità di ciascuno, al rispetto, alla civiltà fondamentalmente, oppure evidentemente il contrario di questo è che il mio bene debba derivare dal male di un altro, che, badate bene, a priori viene costruito per questo, non è un salvo d'acquisto che eroe in una situazione drammatica si sacrifica per gli altri. Qui uno nasce apposta perché gli altri debbano goderci sopra, viverci sopra, e tutto questo viene considerato un atto di salvezza e di, come dire, di salvezza proprio del genere umano. Questa logica, capite bene, che è una logica perversa, però se la confrontiamo con la quantità educativa che viene delegata dallo Stato alle istituzioni religiose, dagli asili nido in poi, dai crocifissi nelle scuole, dai crocifissi nelle auree dei tribunali, si può capire altrettanto bene il danno pedoclastico che viene fatto nella testa, nell'anima, nel DNA affettivo dei bambini. Questo è un problema straordinario di cui ci si immanaviglia del fatto che non venga sollevato dagli educatori. Penso che ci sia una responsabilità enorme da parte dei pedagogisti, psicologi, educatori, nel momento in cui non denunciano con sufficiente chiarezza questo aspetto, in termini di credibilità. Il morso tua, vita mea, diventa il principio pedagogico implicito o esplicito in questo ambito qua. E il fatto che il concetto di amore sia corrisposto ad una dimensione sadica, è chiaro che assimila il genitore che accetta, anzi addirittura si fa promotore di questa logica, a quel colpevole stesso che viene salvato dalla morte dell'innocente. Quindi in realtà giustifica i genitori a scaricare i propri impulsi sadici sui figli. È un'antica forma del figlicidio che viene reiterata sotto forma d'amore. E ancora nel 2007 noi abbiamo questa forma educativa che è assolutamente egemone e ancora è libera di produrre i suoi enormi danni. Ha ragione con l'odi quando mette Pinocchio, innocente, in galera nel paese di Acchiappa Citrulli e con l'indulto viene liberato solo a patto che ammetta di essere un delinquente. E lui dice, ebbene sì, se questo è il patto perché io posso essere liberato, io sono un delinquente, è vostro onore. Meglio essere Barabba che Gesù, fondamentalmente. Solo i colpevoli si salvano. Gli innocenti per definizione, nella loro presunzione di innocenza, devono morire. Questa è la logica fondamentalmente, almeno quella intrisa nell'aspetto del catechismo. Allora, la critica veramente ai contenuti della morale cristiana c'è stata in vari modi, in termini oggettivi e in termini soggettivi. Oggettivo è che le radici della nostra cultura non sono cristiane, sono latine, soprattutto greche, fondamentalmente laiche, legate ad una logica dell'emancipazione che il mito greco ha posto, per esempio, nella figura di Prometeo, nella figura di Teseo che è libera dall'incesto, dal labirinto, in altre figure in cui del figlio è considerato l'eroe, che addirittura lotta contro il potere della famiglia, degli dei genitori, salvando la propria sessualità, il fuoco di Prometeo, per fondare una nuova famiglia, che sia Aenea, che sia anche lo stesso Mosè, che sia... Comunque il mito dell'antichità salva la generazione dei figli e fa sì che, col vecchio padre anchise sulle spalle, comunque i figli creino attraverso la lotta epica una nuova famiglia, perché attraverso l'eccezionale si realizza ciò che normalmente non riusciamo a fare, fondamentalmente. Quindi è una disposizione sana, emancipatrice rispetto alla qualità dell'individuo. Invece con l'introduzione al cristianesimo si ha la regressione alla morte del figlio. Il figlio deve morire, come esempio, non eroe che vince, no, come esempio deve morire. È Amleto, gli uccide il padre e poi si fa in modo che tutto il suo regno finisca in tragedia. Allora questa è una logica perversa, che ha creato la caduta della civiltà in termini di aggressività dell'Occidente. Quindi è una maleducazione antica. Alcuni, nella tradizione culturale dell'Europa, hanno rilevato questi aspetti. Sicuramente la psicoanalisi per alcuni aspetti, ma per esempio nella filosofia Nice, come tutti sanno, ha scritto nell'anticristo delle cose molto importanti, definendo la figura di Cristo, come lui usa letteralmente la parola idiota. È scritto proprio nell'anticristo. Nel fatto che morire per una causa non dimostra la giustezza della causa, questa è la tesi di Nice. Ma in Italia abbiamo un esempio di tradizione anticristiana straordinaria, tra l'altro non rilevata e sistematicamente cancellata. Allora abbiamo Collodi, con il suo stupendo Pinocchio, che è una brutta favoletta in fondo, piccola, che non dice nulla della bravura dell'autore, perché se fosse stato bravo l'autore, come i fratelli Grimm o Andersen, avrebbe scritto altre dieci di gran successo. Eppure è la produzione letteraria più conosciuta nel mondo. Perché? Perché nasce dal legno dove è morto Cristo, per ritornare in carne ed ossa. È figlio di un falegname che si chiama Giuseppetto, Geppetto. C'è l'Orto degli Olivi, il campo dei miracoli, il tradimento dell'inganno, le monete d'oro e 30 denari, il gatto alla volpe e due ladroni. Abbiamo una metafora anticristiana formidabile che parte dall'anticlericalismo di Collodi, in epoca esorgimentale, e secondo questa proposizione, se è lecito credere che una donna possa rimanere incinta però per la virtù dello Spirito Santo, allora io narrerò di un uomo, per di più un falegname, che con una sega e una pialla fa un figlio da sé. Ecco, questa è la feroce critica anticristiana di Collodi che è passata sotto silenzio. Il cardinale Biffi di Bologna ha scritto libri e libri per dimostrare quanto cattolico e cristiano è Pinocchio. La falsificazione è voluta, consapevole, ed è fondata nella tradizione di grande falsificazione che la Chiesa cattolico-cristiana ha, dagli inizi, dagli esordi fondamentalmente. Ecco, questo è il problema grave. Abbiamo a che fare con una struttura educativa che è libera di imperversare, rilevano le statistiche di questi giorni, 4 miliardi di finanziamento annuale di euro a suo vantaggio, non paga lici per 100.000 immobili, quindi ha un potere straordinario che gli viene delogato dallo Stato per una sorta di marketing del consenso, che però genera, produce molto più disagio, molto più danno, molta più cattiveria, molta più, come dire, trasgressione e malessere, anche malattia a livello sociale, perché è la religione sia dei boss che delle loro vittime, fondamentalmente. E tutto questo purtroppo è ancora in una situazione dove non è stato ancora portato un paradigma di critica fondamentalmente coerente. Anzi, quelli storici sono stati insabbiati, falsificati, affossati. Non che non ci siano, ci sono, ce ne sono tantissimi. Tutta la civiltà dell'Italia e dell'Europa è stata costruita contro e nonostante la religione cristiana. Pensate a Galileo e a Giordano Bruno per quanto riguarda la scienza. Pensate al rinascimento con la riscoperta del corpo, dei testi greci, della laicità. Pensate alla rivoluzione francese. Pensate alla guerra di liberazione. Pensate alle lotte delle donne e degli operai per la libertà. Pensate all'enorme significato dell'antifascismo, in fondo, che vedeva il Vaticano schierato dall'altra parte, concordato con il fascismo, concordato con Hitler. Quindi abbiamo falsificato anche la storia recente. Questo è il livello. Quindi esiste una storia anticristiana e come? Solo che ancora oggi viene mortificata. La questione è che una tradizione in Italia e in Europa si sta risvegliando in qualche modo e si sta arricchiendo di nuovi contenuti perché la pluralità delle culture ci obbliga in qualche modo a mettere sotto esame i concetti. Io non sono un credente, però anche per il mio lavoro devo sapere alcune cose, non credere, ma devo sapere di che si tratta, quali sono le dinamiche affettive, vedo come ci si ammala, vedo come si guarisce, eccetera. Ma è fondamentale per rispettare comunque il bisogno di religiosità, di fede nelle persone. Il mio problema è mettere sotto esame il contenuto educativo perché ci sono belli straordinari favole o rappresentazioni o fedi o credi che sono oggettivamente orientati all'emancipazione e al bene. Quando si produce un sapere, una formazione che viene addirittura spacciata sotto forma di fede, neanche di rappresentazione, ma di fede e che produce sicuramente degli effetti nefasti, io ho il dovere come educatore, come formatore, come terapeuta, io ho il dovere di denunciarlo. E mi rivolgo ai colleghi, questo è l'appello che farò poi anche in varie sedi, proprio perché la dimensione della dannosità della religione cattolica sia individuata, sia spiegata in termini semplici, sia dimostrata alle persone, secondo il libro interiore che ciascuno ha di queste cose, e in qualche modo si riesca a intervenire per riportare la Chiesa cattolica, il suo potere, al privato, non all'ingerenza istituzionale. La perversione che è insita nell'educazione, come abbiamo visto, della fede cristiana, ha una caratteristica, quella di rappresentare alcune istanze veramente aggressive, distruttive dell'animo umano. Questa pedoclastica, in particolare di mettere in croce il figlio, di alla fin fine essere d'accordo sul fatto che qualcun altro lo uccida, però comunque di predestinarlo a questo, a partire dall'autorità affettiva della famiglia, dei genitori, è qualcosa di profondamente, profondamente perverso, sadico. Pensate, insegnare questo ad un bambino significa fondamentalmente, se il bambino si identifica poi, divenendo adulto, nell'aspetto masochista, cioè si identifica in Cristo, alle prime difficoltà non dobbiamo meravigliarci se gli adolescenti si fanno del male, assumono sostanze autolesive, non sanno affrontare problemi perché hanno dentro di sé una forte ferita di tipo masochista, si sono identificati nel bambino che muore, nell'adulto che muore, che è amato solo se dimostra di sacrificarsi, sacrificarsi non in senso di impegno, di lavorare per costruire qualcosa, ma sacrificio in quanto tale a priori, questo è profondamente dannoso. L'altra alternativa che spetta al bambino che divenne adulto sotto questa formazione è, io mi identifico dalla parte dell'aggressore, perché per la paura, bene, mi metto da parte di quelli che fanno male agli altri, quindi assumo l'aspetto sadico, pensate ai satanisti, i ragazzi satanisti che sono stati messi sotto processo, o le ragazze di Chiavenna che hanno ucciso la suora, o le ragazze di Foggia che uccisero l'amica, o tante altre situazioni che vengono comunque dalle parrocchie della provincia italiana, bene, si sono identificati in qualcosa che hanno sentito, che gli hanno insegnato, per esempio il diavolo è una produzione della cultura, della tradizione, della Chiesa. Ancora Giovanni Paolo II ha ribadito l'esistenza del diavolo in mezzo a noi. Cosa c'è da meravigliarsi se alcuni ragazzi assumono questo aspetto come nella loro spontanea dimensione di trasgressione, come un elemento in cui incarnarsi, proprio per paura. Sappiamo che per la paura ci si identifica con l'aggressore, quindi o si è sadici, o si è masochisti, oppure, come la grande maggioranza degli italiani, che si dicono credenti, anche se non praticanti, ma si dicono credenti uguali a chi gli tocca la Chiesa, perché in fondo fa bene, dicono loro, in fondo fa bene, ma abbiamo visto che bene che fa. Il problema è questo, che la grande maggioranza degli italiani non solo si dicono credenti, anche se non praticanti, ma con altrettanta fede praticano divorzio, aborto, separazioni, sessualità, fecondazione assistita, cioè sono convinti di tutta una serie di situazioni, di esperienze culturali e dei comportamenti, che sono per definizioni contrarie alla fede cattolica, così come viene prescritta in quanto tale. Questo significa che la terza alternativa al sadismo e al masochismo è l'ipocrisia. E l'ipocrisia è esattamente la più grande attività che in Italia si fa. Teniamo presente che la religione cattolica in quanto tale è un prodotto italiano, non più nemmeno come la mafia, di cui sappiamo che gli esponenti sono profondamente credenti. La politica ha spesso usato la questione della religiosità in due modi fondamentalmente, uno per tenere buona la gente, per veicolare il controllo, illudendosi di controllare la religione. In realtà è la religione, questa apologia del male, che preesiste alla religione stessa, perché è nell'antico rito sanguinario delle antiche religioni pre-greche, insomma, che i greci poi hanno superato. Ma in realtà è una maleducazione che poi in realtà è ingestibile. L'esempio è Napoli, ma non è solo Napoli, ma parliamo di Napoli. A Napoli manca in certi quartieri la giustizia, manca lo Stato, manca il rispetto dei diritti, non è mai mancata la Chiesa. Con i suoi ori, con i suoi cuori trafitti, con i suoi morti in cui vengono venerate i sangue, San Gennaro, eccetera, di fatto è un'educazione che non è mai stata contrastata, quindi non si può dire che non ci siano quei valori. Quei valori ci sono incontrastati, egemoni, e hanno prodotto esattamente l'allontanamento dai valori civili, la situazione di ingestibilità, il rifiuto, il rifiuto inteso sia come disagio nella famiglia, sia come immondizia, cioè anche come sintomo sociale, e hanno prodotto una surplus di aggressività, di distruttività e di autodistruttività che porta a rendere ridicola la critica che noi portiamo per esempio alla mania negli USA di usare le armi. Noi critichiamo gli USA perché hanno la vendita libera delle armi e abbiamo 100 morti ammazzati all'anno solamente a Napoli. Quindi teniamo presente che abbiamo l'AIDS, abbiamo l'AIDS in casa, ecco questo è il problema fondamentale, siamo affetti da una maleducazione estesa, che ancora non trova la possibilità di essere neanche definita in quanto tale. Ecco la mia preoccupazione. Il secondo aspetto è invece l'utilizzo, la sostituzione della scienza del potere al potere religioso stesso con questa logica del creazionismo. Il creazionismo non è, come pensano molti anche non credenti, una teoria che vuole contrapporsi a quella darwiniana. No, il creazionismo è molto di più ed è molto più pericoloso. È la logica ideologica inventata dalla ricerca genetica per poter giustificare il brevetto di nuove forme di vita senza dar conto a nessuno. Quindi la nuova scienza del potere si fa religione sul modello di quello cristiano. Cioè si pone una al posto di Dio in una forma non rispettosa dell'uomo. Ecco questo è il secondo attuale modo in cui il potere utilizza la Chiesa, in qualche modo, in qualche modo ereditandone gli aspetti dell'etere. Il messaggio è questo, bisogna che ci si renda conto, che bisogna mobilitarsi con tutta la sincera volontà, la buona volontà per smascherare questo aspetto che invece rimane sempre fuori campo dalla critica sociale. La Chiesa non fa bene. La Chiesa non è che opera una ingerenza sullo Stato per cui va bene, sta travalicando, però in fondo si sa fa bene. No, non fa bene. La Chiesa è una apologia della violenza. Non gestisce direttamente la violenza. Non sempre, anche se lo fa, lo ha fatto e continua a farlo. Ma in realtà è la causa più inconscia, più affettiva, quindi più pericolosa, perché è domestica, è familiare, è suggestiva, della violenza che si svilupperà nell'adulto, che si svilupperà nella società ad opera di altri, ad opera della stessa persona però in un momento differito. Causa di violenza. E la situazione per cui un modello sadico in realtà genera, produce sia le vittime di un domani, sia i boia del domani, perché sia i boia che le vittime sono credenti. Il caso classico è la mafia, ma non è solo la mafia, è la situazione che si è vista anche nella Seconda Guerra Mondiale, si sono viste certe alleanze che adesso vengono neglette, perché si dice che il nazismo era anticristiano, però era alleato, guarda caso, con il Vaticano, perché avevano dei nemici comuni, che ritenevano comuni. Ora, il problema è che una cattiva educazione, una pedoclastia, in tutti i casi produce un soggetto nevrotico oppure un soggetto violento, oppure un soggetto predisposto a farsi del male. Allora, bisogna intervenire, e questo è l'appello che faccio agli educatori, bisogna intervenire in maniera radicale per affrontare questa oscena forma di educazione. E per sottolineare l'oscenità, perché si tratta veramente di qualcosa che alla coscienza dell'uomo è oscena, io mi prendo la responsabilità di far vedere in sintesi che cosa significa il concetto del crocifisso. Un bambino nato apposta con una ferita per essere destinato alla morte per un fine che viene malinteso come fine d'amore e di salvezza per l'umanità. Ora, quel genitore, chiunque so sia, meno che mai un dio, ho inteso come tale, come fede, credo, che si arroga il diritto di predestinare il figlio alla morte, con sacrificio, tra l'altro, un massacro, e sicuramente un assassino. Allora, questa è la logica che tutti accettano come se fosse una logica di bene, di amore, di carità e di fede. Quindi è una dimensione assolutamente da contrastare e da... non possiamo accusare i cartoni animati giapponesi o i film violenti di essere la causa della violenza, perché la rappresentazione degli stati d'animo negativi dell'essere umano non è causa di violenza, ma è scarico di violenza. Cioè io non esco dalla visione di un film di guerra sparando le persone che so che è stato dichiarato apertamente che si tratta di finzione, quindi è un modo in cui posso scaricare le mie attenzioni. Ma suggerire degli aspetti profondamente anti-umani, profondamente contrari alla natura affettiva dell'uomo e suggerirle in chiave non di rappresentazione, ma in chiave di fede, di credo, di formazione, di esempio, come fa la Chiesa Cattolica, significa voler produrre il male.